Mancano ormai sei giornate alla fine del ginone di andata nei campionati di eccellenza e promozione e soprattutto nel secondo massimo campionato regionale non si ha una vera e propria dominatrice come invece è già uscita fuori in eccellenza, vedi l'Acropoli. In promozione l'equilibrio emerge anche dal fatto che ci sono sette squadre racchiuse in sei punti e che all'appello delle grandi manca ancora qualcuno. Ci sono alcune che sono in ritardo, in ritardo soprattutto per quello che sono gli investimenti almeno a quello che si dice e agli organici che hanno costruito. Credo che alla fine Paolisi, Baiano e Grotta usciranno fuori, credo che questa sarà la griglia finale poi è chiaro che magari non lo so quale sarà la classifica finale però credo che queste tre squadre adesso stanno iniziando a uscire fuori. Poi per le altre ovviamente credo che tutte dovranno lottare per raggiungere i propri obiettivi quelle che stiamo giù come noi che dobbiamo lavorare per salvarci le altre ovviamente chi vorrà cercare di raggiungere i playoff altrettanto. Un campionato esaltante che fino ad ora non ha mancato di mostrarci sorprese un esempio la giovane FC di De Luca o la stessa Siconolfi del mister sicuranza che senza far grandi investimenti sta onorando appieno il campionato. L'unica cosa che posso dire è che questo è un campionato quest'anno dove non c'è una sola partita che sia già scritta prima dell'inizio per cui bisogna lottare, bisogna lavorare. Gli organici di tutte le squadre sono importanti, sono fatte da gente di categoria per cui è chiaro che adesso il tasso è molto più alto e bisogna lavorare tantissimo. Grazie. Grazie. Grazie.